L'Europoli è un po' come la nuova Scampia? Più che nuova Scampia perché francamente non conosco adesso la realtà di Scampia, ma non scopriamo nulla. È la storia che va avanti ormai da almeno 25 anni e da questa parte, quindi sono dei feudi, sono dei veri e propri, delle enclave di soggetti che sia fanno parte dalle associazioni mafiose, sia che non fanno parte o comunque che sono a margine delle associazioni mafiose, e fatto sta che comunque sono territori estremamente esposti a condotte delittuose, quindi di vario genere. Poi per quanto riguarda la droga è una delle principali fonti di arricchimento, fonti di approvvigionamento di danaro, che poi vengono utilizzate per altri giri, per altre cose più ampie. C'è la sfiducia nelle istituzioni complessivamente considerate, perché parliamo di 17 persone, tutte già gravate da precedenti, quindi vuol dire che sono persone già note nell'opinione e nell'immaginario collettivo per aver commesso reati, essere stati magari arrestati, condannati, e che però continuano a girare e a fare i loro traffici. Quindi questo chiaramente va nel senso opposto a quello che cerchiamo invece di affermare noi. Qual è la soluzione a questo problema, secondo lei? La soluzione, dicevo prima, nell'immediato la soluzione sarebbe una registrazione che deve rivedere al più presto l'esecuzione penale. Troppe volte noi mettiamo ordini di esecuzione, addirittura per reati gravissimi, con una condanna definitiva a parecchi anni, e in realtà però alla fine poi si manda in carcere una persona per ben poco, perché tra tutti i benefici, tra reati continuati, tra altri benefit che sono concessi, è difficile assicurare che chi è stato condannato a una determinata pena poi effettivamente vada a dispiare quella pena.